Non hai voluto venire, in realtà. Vuoi dirgli due cose, un messaggio? Sì, che gli voglio bene. Ma come? Quindi è giusto a fuffa. Ma non è che è fuffa, chi cazzo l'ha mai visto? Quando si è svegliato, mi mangio un iPod, fanculo Mike I, che cazzo sai? Che ti devo dire? Cioè, gli ha funzionato. Sì, gli ha funzionato. Quell'altro un po' meno, nel senso che io mi prendo la responsabilità di dire figlio di puttana a uno in un pezzo. Cioè, non è che poi non mi aspetto che uno viene sotto casa, è idem per lui però, eh. Anche lui ha detto così, va bene tutto, ma la mamma, quindi chissà. Anticipazioni scottanti. Quella riga urbana. Quella riga, però entriamo nel tema di oggi. Perla, mi faccio venire la per tosse. Posso fare anch'io così? Mi prendo anch'io le mie responsabilità. A Knight. Ma perché? Sai che stiamo regalando hype di nuovo? Allora regalo. Mi fate un piacere, Knight nominatelo, l'altra persona. No, no, oggi è live sulla parola con la E. Ah, non si può, ah, ok. Quindi, Knight non si può dire. No, Knight non si può dire. Basta, basta parlare di quel senza parola. Avete qualche domanda o se no gli chiedo io qualcosa, Giuliano? Beh, se lo vuoi far presentare un attimo. Un attimo schiarito. Cioè, magari qualcuno da casa non lo conosce. Chi sei, cosa fai e perché sei qui. Hai il microfono. Ma raga, non mi fate un giochetto però. Con il microfono. No. Sono Mike, ormai non mi drogo da tre anni. Bravo Mike. Fate sentire la fratellanza. Sono Mike, non ho mai sentito così tanti applausi in una sola giornata. Non smontare, dietro c'è un buco, quindi. E basta, la presentazione direi che era molto... Concisa. Sì, no, sono circoncisa. Quindi sei ebreo? No. Non circoncisa. Non circoncisa. Non circoncisa con la parola con la N. Bug, vai con la tua domanda. Ok. E... Rimanendo in tema. In tema cosa? Abbiamo parlato di niente. Rimanendo in tema high pop. Ok. E come... Tu... Qual è il tuo rapporto con la parola con la N nelle canzoni? Non ho seguito. La N, la parola con la N. Oggi stiamo dibattendo sul politicamente corretto, politicamente scorretto della parola N. Chi la può dire, chi non la può dire. E visto che tu sei nell'ambiente hip hop, che è palesemente un ambiente politicamente corretto. Sì, infatti, che poi è molto corretto. Di scorretto c'è veramente poco. Pochissimo. Solo la roba che esce nei video, poi, in realtà. Esatto. Quindi come ti rapporti tu con la parola N? Ma io non l'ho mai nominata, non si può. Cioè, nel senso... È un po' come... Ma, allora, te la metto un po' sul mio piano. Io sono terrone. Ho sempre vissuto in un posto...